La seconda commissione ha ascoltato i vertici del gruppo Grifo Agroalimentare in merito alla esternalizzazione del magazzino di Ponte San Giovanni. Dall'audizione richiesta dal consigliere Smacchi del Partito Democratico è emerso che la scelta dovrebbe servire a razionalizzare i costi migliorando la gestione del magazzino a cui fanno riferimento i cinque punti di produzione. Durante i lavori è stato disegnato un quadro della situazione attuale del gruppo Grifo che impiega direttamente 190 persone, 18 nel magazzino, ha un fatturato di circa 54 milioni di euro e ha varato un piano industriale che punta alla diversificazione, oltre al lattiero caseario anche legumi, vino e gastronomia, e cerca di far fronte a una crisi economica che ha portato a una riduzione dei consumi anche in Umbria. Al termine dell'incontro Smacchi si è detto rassicurato per quanto riguarda il piano industriale e il futuro dello stabilimento di Fossato di Vico. Per il consigliere regionale però la scelta sul magazzino, per quanto legittima e apparentemente irrevocabile, poteva essere valutata meglio e in modo più approfondito.